La vita di un grande calciatore, di uno straordinario e ripetibile campione che parecchi avevano quasi rimosso dalla memoria, ma è accaduto di pubblicare questo libro. Come è? Sui sette anni di vita calcistica trascorsi a Napoli, c'è tecnicamente il distacco definitivo dal punto di vista calcistico ovviamente del Pibede Oro. Il Stato fu cooptato in maniera anche immediata senza far vivere le emozioni al lettore, quindi questa come diceva giustamente Gianfranco. Il profisico che noi chiamiamo appunto da dietro quando a febbraio del Gui. Poi arrivano a Maradona, quindi il solito circo mediatico che accompagnava ogni suo spostamento. Qui è lottato da Carlo Franco, il competentissimo nostro amico Sergio Puccio. Di me, anche perché di Maradona non voglio parlare, ve l'ho leggetto. Perché ogni volta che il 30 ottobre tutti quanti, ah, che è il mio compleanno, dico, ah, sei nato nel giorno di Maradona. No, è lui che è nato nel giorno di Maradona. Sono lì perché facevo il tempo perché c'era Maradona. Da buon brasiliano sono rimasto malissimo. Dopo, dopo è tutto il resto. Pensate che lui è stato capace di fare un buon bruglia pura a New York, a chi è che faceva un gioco del piccato. E lui era lo scacchio. E sui occhi, quando dovete veramente confermare il volo di lì. Ma allora venga attanciato meno come traditore. Io posso dire, probabilmente è il mio fricolo.